Namaste, io sono Ace the Brave, bentornati ad un altro episodio della maledizione di Naxoramas Giochiamo ancora a Darkstone, siamo nella terza sala, l'ala dei combattenti E a livello eroico Per la precisione Iniziamo contro l'istruttore Razuvius Ma sto registrando questi episodi una seconda volta Perché purtroppo l'episodio che avevo caricato era corrotto E ho perso completamente il file Anche i file d'origine, quindi ho dovuto rifare tutto quanto In questo momento è già aperta la prossima ala E quindi magari se vedete qualche numerino o qualcosa di diverso Ma comunque parliamo un po' di quelli che sono le mie tattiche Per affrontare i tre boss della ala dei combattenti Iniziamo appunto con l'istruttore Razuvius Con il mazzo Sacerdote Il mazzo Democrazia Cristiana Che ha una carta molto importante Che è questa che sto mettendo adesso Che è il fuoco interiore Perché potendo fregare gli allievi all'istruttore Che sono 0-7 Poi posso farle diventare almeno 1-1-7-7 Quindi molto facile da fare L'istruttore Razuvius come vedete ha 55 punti ferita E ha un potere che costa solo 1 E fa 4 danni a chiunque Quindi un bel po' tosta come cosa Posso dare Decido di prima di dare Di usare il fuoco interiore Decido di dare altri due di energia Altre due di salute A uno dei due E continuare su questa strada Il suo destriero sta attaccando Per fortuna il più debole dei due allievi miei E io decido di giocare Adesso vediamo Come vedete ho un mazzo abbastanza Per le partite lunghe Nel senso che ho tante cure Tante cose del genere E ho una 9-9 in gioco Avendo lui 54 punti ferita In 6 turni dovrei riuscire a farcela Vediamo se Se non muore prima Ma come vedete Lui sta attaccando tutto Tranne che la mia 9-9 E quindi quella continua a sopravvivere Comincio ad avere un bel po' di carte Tra cui una che gli ho copiato Che purtroppo non è chissà che Però ci servirà Nel senso che Costa 4 E una 6-5 Se non sbaglio Come creatura Qua mi distrugge La mia creatura Però lui ha dovuto Utilizzare la sua arma Che come vedete È un po' più Un po' più forte Nel senso che Ha 10 d'attacco E vi ricordo che Fa il doppio di danni Se mi attacca direttamente Quindi praticamente In un colpo sarei morto Grazie a questo Riesco a distruggergli l'arma Grazie al pirata Che è lì a posta Proprio per quello E decido di giocare Anche questa 5-6 Non 6-5 Scusate Che ha Purtroppo Il suo rantolo di morte E uccide I vicini Ed è una cosa Che è propria Dei mazzi Di rantolo Questi rantolo di morte Anche negativi Diciamo Infatti Me la distrugge Il pirata muore Di conseguenza Però per fortuna Il L'amichetto Di luce È ancora lì La prole di luce È ancora lì Gli frego Una delle carte migliori Secondo me Forse Una delle mie preferite Di Naxanamas Finora Che è questa 2-8 Niente male Lui gioca La rissa E Per fortuna Sopravvive proprio lui Il signore della morte Che ama 2-8 Con provocazione Direi Molto forte Come carta Purtroppo ha un altro rantolo di morte Negativo Ma per Per costare solo 3 È decisamente forte Come carta Gioco tutto quello che ho In questo momento Quindi la fonte La fonte Di luce È Un'altra prole Lui gioca L'altra carta Che mi piace tantissimo È anche un necro cavaliere Che Può esserci molto utile Per distruggere Il suo vicino Qua ci possiamo curare Curo me personalmente Avrei preferito curare Qualcos'altro Delle creature Ma Va bene Lo stesso Gli copiamo un'altra creatura E salta fuori Il Fabbro Curiamo la nostra creatura Altri 5 danni Lui rimane solo Rimane solo con 7 Questo potere È abbastanza inutile Perché mi dà Uno in più Di Di Forza Di attacco Però Avendo l'abilità La parole di luce Di avere L'attacco Sempre Guarda la salute È Può aumentare L'attacco Da solo Ma deve aumentare La salute Per Far aumentare L'attacco Quindi è un po' Il contrario Insomma Gli copio Un'altra carta E salta fuori Il cavaliere nero Che è una leggendaria Bellissima Che purtroppo Non ho ancora Ma mi piacerebbe avere Distrugge carte Con Un servitore Con provocazione Purtroppo non ce l'ha Ma decide di giocare Allo stesso Per fare un po' Di danni Distruggendo questo Riusciamo a spazzare via Un po' Di creature varie E con gli ultimi due Facciamo due danni Direttamente a Rasuvius Che rimane con cinque Tenendo conto che ho Quattro danni in gioco Più la possibilità Di trasformare la mia cura In un attacco Faccio sei danni E dovrei essere a posto Lui ha un altro Fabbro di spade Di spade Un accolito del dolore Ma nessuno Con provocazione E quindi direi Che possiamo anche farcela Decido anche Di giocare questa Giusto per vedere Cosa gli copio ancora Un altro Di questi Signori E così possiamo fare Quattro danni E con il potere Che Al contrario In questo momento Riusciamo a vincere Contro Rasuvius Direi Abbastanza Facile Come ottimento Sicuramente La seconda volta Che lo fai È abbastanza facile Mazzo Sacerdote Vi permette Di curarvi parecchio Andiamo contro Gothic Il falciatore Che è stato forse Il più difficile Dei tre Per Per diversi motivi Perché Specialmente Intanto usiamo Lo sventrapapere Per l'occasione Un po' Modificato Un bel po' Modificato Per l'occasione E Quello che ha Di caratteristico Gothic Ok Il problema Sono queste due cose Il fatto che I suoi servitori Non muoiono mai E quindi Ogni volta che muoiono Arrivano dalla mia parte E mi fanno un danno Per turno E quello non è cambiato Assolutamente niente La cosa che cambia Ed è quella Un po' più terribile Secondo me E che adesso Ha un potere Che costa uno Ma è in autocast Quindi ogni turno Lo utilizzerà E cosa fa Gli da un cristallo In più E una carta in più Quindi praticamente Lui pesca due volte E Ha due mana In più per turno Quindi praticamente Può lanciare Al quinto turno Carte da dieci Se vuole Il che È una cosa Da sfruttare Cercherò di sfruttarla E come possiamo sfruttarla Lui pesca due volte Io pesco una volta sola E quindi cerchiamo Di fargli pescare Più carte possibili Quindi di prolungare Tanto il combattimento In modo che Quando finisce le carte Comincia a ricevere danni Da questa cosa Visto che ha 45 di energia E non è facilissimo Fargli danni Così Così In fretta Insomma Vedete che Siamo al Secondo turno E ha già tre creature fuori E ha quattro di mana Praticamente Come vedete Io ho intanto La rissa Che è molto utile Per Spaziare un pochino Un signore della morte Che appunto Vi dicevo È molto utile Contro questo mazzo Perché fa due danni E come vedete Lui ha tante creature Che fanno due danni Qua e là Ma soprattutto Cercheremo di sfruttare Il fatto che lui Ha l'abominio E tra le varie carte Credo abbia anche Il Goal Goal unistabile Che fa un danno Tutti quanti Con umore E anche L'abominio Che ne fa due Invece con umore Sfrutteremo questa cosa Per cambiare un po' Le carte in tavolo Perché lui Appunto Si ritrova con Quattro creature Io me ne ritrovo Con mezza Praticamente Adesso Adesso Zero Del tutto E come vedete Gioca un altro abominio E gioca un golo instabile Oltre che a giocare Un'altra guardia Furia del sole Quindi ha La mano piena Sette carte Sette servitori Di cui Quattro Cinque Con provocazione Si E adesso Vedo di fare Un po' di conti Perché se gli muore L'abominio Fa due danni a tutti E quindi morerebbero Altre due creature Però c'è un altro Abominio Che può fare A catena La cosa E quindi decido Di fare due danni Da quella parte Decido di mettermi Lo scudo In modo da Infliggere questi due danni A uno dei due abomini Questo fa distruggere tutti quanti L'altro abominio muore Fa altri due danni Muore anche il golo instabile Che fa un danno A tutti quanti In sostanza Lui è senza creature Io ne ho tre Purtroppo negative Per me Perché mi faranno tre danni Però ho la possibilità Di mettermi due di armatura Quindi in realtà Grazie al potere Del Del guerriero È come se ne avessi una sola In gioco Negativa Lui comunque Me ne distrugge una Cosa che non avrebbe dovuto fare Perché è abbastanza inutile Però Comunque Nonostante Gli abbia distrutto Sette creature Il turno dopo Ne ha lanciate altre tre E questa è la potenza Secondo me Di Gothic Il fatto che Io sono ancora Siamo ancora A cesto turno Io ho sei E lui è già Dieci Da un turno Decido di distruggergli Una creatura E di lanciare Come vedete Un'altra Delle Delle tattiche Che utilizzo È quella di Dare provocazione Ai servitori Che vorrei morti Quindi praticamente Se lui deve attaccarmi Mi attaccherà Prima a quelli E quindi Mi aiuterà In un certo senso Sto sfruttando La tattica Per Come vedete Adesso Io non ho più Spettrali Che mi possano far male Non ho più creature In realtà Adesso Gioco Un altro Abominio Che potremmo sfruttare Per distruggere La creatura Alla sua sinistra Abbiamo una rissa Anche per poter Liberare Un po' Il gioco E Qui Cosa decido Di fare Gioco Lo scudo In combinazione Forse Col colpo Di scudo Perché Giustamente È una È una bella Combo Che fa Cinque danni All'abominio L'abominio Muore E facendo due danni Distrugge la creatura Alla sua sinistra E la creatura Alla sua destra Ha tre di energia Possiamo fare Possiamo distruggere Un servitore Ma distruggere Quel servitore Ce lo porta Dalla nostra parte Conviene Perché Nel suo turno Mi farebbe cinque danni Mentre nel mio turno Quindi ancora Un turno più avanti Me ne fa uno solo Quindi a questo punto Conviene avercelo E soprattutto Perché Se sto sotto Le due creature Sotto le Due O sotto creature Quindi una o due creature Ho comunque La possibilità Di avere Di avere L'armatura E quindi È come se non perdessi Perdessi punti vita Adesso possiamo Esatto Mi metto ancora Un po' di armatura E possiamo attaccare direttamente Quindi a 30 di energia Vedete che Nonostante siano passati 8 turni Sì Gli ho Gli ho fatto Era 45 Se non sbaglio Gli ho fatto 15 Siamo a un terzo Della battaglia Dopo 8 turni Quindi Vuol dire che durerà Ancora abbastanza E come vedete Anche dal video È la battaglia Delle tre Che dura di più Cos'altro vediamo Lui mi attacca Come vedete Ha sempre 3-4 creature In gioco E quindi La rissa È decisamente Forte Di nuovo Un'altra Provocazione A uno degli spettrali Quindi morirà Di conseguenza Possiamo fare Due danni Glieli faccio A lui In modo che Posso pescare Una carta E che è Cosa che mi serve Facendo così Gli elimino Quella carta Che il becchino È abbastanza tosto Se rimane Tanto in gioco Perché lui Ha tantissime Creature Con il ratolo Di morte Praticamente tutte A parte Lo stesso Becchino E quindi Praticamente Diventerebbe Molto molto forte Meglio eliminarla Il prima possibile La cosa che perdo È appunto Il fatto che Lui mi sta Corrompendo La creatura Che mi sta Facendo danni Quindi Continuiamo Da questa parte Decido di giocare L'altro signore Della morte Utilissimo Veramente Carta Utilissima Decido Decido Di mettermi Un attimo Ancora in cura Perché Tanto lui Ha solo Una creatura Mi ha dato Solo uno Spettrale Quindi mi farebbe Un danno Al massimo E con Due di armatura Riesco a Combinare E gioco La guardia Fuori del sole Che non è Tanto utile In questo momento Perché darebbe Provocazione A quelle a fianco Ma ce l'hanno già Però sono sempre Due danni in più Soprattutto quando La creatura Alla mia sinistra È appena morta Un'altra corruzione Questa volta Sul signore Un altro Nero destriero Come vedete Ha più o meno Le stesse carte Che girano In continuazione Un alchimista Che scambia Attacco e difesa Fa diventare Lei un 1-2 E gioco Una corruzione Ha finito Le carte in mano E qui è una cosa Molto positiva Il fatto che Ha finito Le carte in mano Gioco la rissa Per buttare giù Tutta quante Le creature Perché lui ne ha 5 Diciamo che Probabilmente Gli ne sopravvive una E invece Sopravvive Il signore della morte Signore della morte Che però Non sopravvive da solo Perché arrivano Anche gli spettrali Che sono appunto Quelli morti Nella rissa Però comunque Avere il signore della morte In gioco Purtroppo muore adesso Ma fa almeno Due danni Lui ha un altro Goal instabile E come vedete Adesso sta pescando Due carte Ancora E comincia a avere Poche carte Ne ha due Ho letto bene O 8 O 2 Non riesco a leggere Benissimo A questa distanza Comunque Comunque ne ha poche Fondamentalmente Io gioco Ho un'altra creatura Con provocazione Facendo così Facciamo un danno A tutti quanti Facendo così Faccio l'altro danno A tutti quanti E in questa maniera Muore una delle mie creature Soprattutto Mi metto l'armatura E un'altra carta Con provocazione Esatto Adesso ha finito le carte Gli ne mancavano due E quindi Si tratta semplicemente Adesso di Cercare di resistere Il più possibile Perché Lui continuerà A pescare due carte Alla volta Tenete conto Che fa Un danno Ogni volta Che pesca la carta E ogni volta Un danno in più Quindi praticamente Se adesso io Resto in difesa Vedete che Lui a 21 Fa un danno Perché doveva pescare Una carta Usa il potere E deve pescare L'altra carta Quindi gli fa due danni Il prossimo turno 3 e 4 Il turno dopo 5 e 6 Facendo il conto 3 più 4 7 Più 5 12 Più 6 18 Sì E quindi Praticamente Devo resistere Almeno due turni Decido di non usare La rissa Ma di usare Neanche l'esecuzione Se non sbaglio Semplicemente Mi tengo in difesa Il più possibile Perché così Posso Attendere Che si faccia Del male da solo 3 danni Usa il potere In automatico Altri 4 danni Rimani con 10 di vita E praticamente Adesso è finita Perché lui È riuscito A farmi solo 5 danni Me ne fa ancora 2 Perché appunto Ci sono gli spettrali In gioco Posso decidere Di usare L'esecuzione Tenete conto Che il prossimo Turno io sono morto Perché lui Ha 10 danni Da potermi fare Io ne ho 8 E al massimo Posso arrivare a 10 Quindi decido Di distruggere Una creatura In modo che lui Possa farmi Solo 5 danni Uso anche La rissa Perché La uso dopo Perché esattamente Potrebbero morire Tutti Infatti Quello che succede È che Muoiono Due E restano due Lui prende 5 danni E ne prende Altri 6 E quindi Questa era la tattica Cercare di prolungare Il più possibile La partita Con un mazzo Appunto Del guerriero Tante carte Con provocazione E tante carte Che danno Provocazione Per cercare Appunto Di sconfiggerlo Sul lungo tempo Veniamo All'ultimo Combattimento Il terzo L'ultimo Contro Il cavaliere Della morte Il barone Fiena morte E i suoi Amichetti Utilizzo Il mazzo Vita in segreta Parecchio Con parecchi segreti E parecchio Modificato Per l'occasione Vediamo subito Cavalieri Della morte Della Della apocalisse Scusate Ok Allora Il mazzo Comunque Il combattimento È modificato Nel senso che Tutti quanti i cavalieri Hanno 2-7 Anziché 1-7 Quindi hanno il doppio Dell'attacco E Questa cosa Si ripercuote Anche sull'arma Del barone Fiera morte Che è una 2 Di attacco E Soprattutto Prende più 6 Se gli altri cavalieri Muoiono Praticamente Era raddoppiato Anche quello Mentre prima Era uno D'attacco E Prendeva più 3 Se morivano Gli altri Iniziamo Mettendo in gioco Riducendo la salute A 1 2-1 Vedete Alla lama runica Che è 2-3 E più 6 D'attacco Se muoiono Gli altri E quindi Molto difficile Da contrastare Come ho impostato Questo mazzo L'ho impostato Lui ha un sacco Di segreti E quindi Io ho un segreto Per Ho una magia Per distruggere I segreti Ho la melma Per distruggergli L'arma E Il bengala Serve appunto A distruggere I suoi segreti Non decido ancora Di utilizzarlo Perché molto probabilmente Nei primi turni Lui ne lancia 2 o 3 Vedete che Ne ha lanciato Un secondo Quindi Ancora la tattica È quella di cercare Di distruggere Più velocemente Possibile I 3 servitori 3 unici servitori Che ha In tutto il mazzo Si attiva Un segreto Qua avrei dovuto Fare il contrario Avrei dovuto Prima lanciare La distruzione In segreti E poi L'altro Ma questo segreto Qua non l'avevo ancora visto Distruggo il segreto E pesco Il La creatura Che costa 5 Che è una delle creature Chiave Di questo mazzo Vita in segreta Contro I cavalieri Dell'apocalisse Perché distrugge In automatico Una creatura Che abbia 2 d'attacco Al massimo Cosa che potrei utilizzare Giocando quella carta Gli posso Disintegrare Uno dei tre Dei tre cavalieri Facendo così Riesco a eliminargli Uno dei cavalieri Con questa Gli elimino un altro Purtroppo Non quello con meno energia Non quello con più energia Ma va bene lo stesso Purtroppo Questa carta Cambia un po' Le carte in tavola Perché Il prossimo turno Io avrei potuto Giocare quello E distruggerla automaticamente In questa maniera Però lui ha adesso 3 di attacco E quindi È un po' più difficile Buttargli laggiù Ma ce la faremo lo stesso Il depistaggio Non è niente male Per Prendere un turno di tempo Perché è esattamente Quello che farà Lui mi fa 4 danni Con questo segreto Che si attiva Si mette a attaccare Qualcun altro Purtroppo Il barone feria morta È ancora immune E quindi rimane Con Un nulla di fatto Semplicemente In questa maniera Posso distruggergli O comunque Ridurgli a 1 La salute Questa avrebbe dovuto Distruggere la creatura Ma purtroppo Non può farlo Perché ha 3 D'attacco E non solo 2 D'attacco Ma il prossimo turno Dovrebbe andare giù Quindi questa è la Cosa che ha fatto Prolungare un pochino La partita Io avrei potuto Attaccarlo Direttamente Distruggergli Direttamente Del cavaliere Invece Ho dovuto aspettare Un turno in più Adesso i 3 cavaliere Sono morti Lui è senza difese Io sono senza attacco In questo momento E non ho neanche Carte in gioco Mentre lui sta Continuando a pescare carte Quindi vuol dire Che non ha tante Tante cose Tenete conto Che adesso Lui non ha possibilità Di mettere servitori In gioco Perché gli unici Servitori del suo mazzo Sono quei 3 Cavaliere della morte Tutto il resto Sono magie Segreti E cose così Infatti vedete che Lui Quello che riesce A pescare Quello che riesce A fare Sono solo 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 Magie Segreti Qua me la vede Oppure Oppure l'arma Ecco Questa è l'unica Differenza Pesco anch'io La mia arma L'arco Che non è niente male E si attiva Ed è più performante Con i segreti Come vedete qua Ho delle trappole Che purtroppo adesso Diventano inutili Perché appunto Lui non ha più Tutta la serie Di 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 creature Che aveva Le tre creature Che potevano Cadere In queste trappole Per fortuna Non ha null'altro Da giocare E quindi posso fare Due danni Con il potere Dell'eroe E con l'arma Posso distruggerlo Quindi è un mazzo Come vedete Con tante possibilità All'inizio Per appunto Distruggere Il più velocemente Possibile E in qualsiasi maniera In realtà Non c'è una sola maniera Per distruggerli Come avete potuto vedere I tre cavalli Della morte E poi Buttarsi giù Ci vediamo In un prossimo episodio In cui affronterò La quarta Ala dei combattenti A livello normale Io sono East Brave E vi saluto Con un bel Namaste And Be Brave In un prossimo episodio